Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa che io dedicherei oggi, citiamo, è il venerdì 15 marzo del 2019. Allora, la rassegna stampa oggi la cito a quelli che non la possono vedere in questo momento, cioè quegli studenti del liceo che in questo momento stanno andando a scuola, a quelli professori che in questo momento stanno insegnando agli studenti lo spirito critico, le nozioni della nostra cultura, della nostra storia, della nostra matematica, che non è nostra ma è del mondo, insomma quelli che stanno facendo il loro mestiere. Perché oggi dovete sapere che la grandissima retorica della minchia, saluto Luca Donadelle che si sta collegando ora, e Luca bisognerebbe fare una battaglia di civiltà su questo, e cioè potete pensare che il pianeta sia distrutto dall'uomo, potete pensare che la plastica stia ammazzando le tartarughe o i granchi come vediamo oggi nelle prime pagine dei giornali, potete pensare tutto quello che volete, potete pensare come la geniale giornalista del Sole 24 Ore, Sole 24 Ore, giornale della Confindustria, cioè di quelli che fanno gli imprenditori, che oggi scrive sulla Confindustria, cioè scrive in prima pagina, cosa scrive? Bene, la Confindustria scrive che dobbiamo, sono decenni di un'economia basata sul consumo delle risorse naturali, perché l'economia in realtà su che cosa cazzo si deve basare? Sul consumo degli esseri umani? Vogliamo evitare di avere il petrolio, vogliamo evitare di avere il carbone, vogliamo evitare di avere l'energia nucleare, vogliamo evitare di avere l'energia fossile, perché vogliamo ancora mettere i muri? No, quelli no, per carità, perché gli animali non si possono toccare, vogliamo mettere ancora gli uomini, gli uomini a fare i mestieri che invece vengono fatti con le risorse naturali, perché le risorse naturali contano più degli uomini, allora questa economia, secondo il Sole 24 Ore, un'economia basata sul consumo delle risorse naturali e prodotti usa e getta, va bene, usa e getta, un costo significativo in termini di impatto ambientale, Sole 24 Ore di oggi, siamo fottuti perché sono degli ipocriti della minchia, perché da una parte girano con i loro aretti, di cosa che io sono ben contento, e dall'altra ci spiegano sul loro giornale che noi abbiamo fatto, usato le risorse naturali, l'Ilva ha usato le risorse naturali, le ferrovie hanno usato le risorse naturali, mapei che si è inventato la chimica, eh, Squinzi, Squinzi, Squinzi ha usato le risorse naturali, la farmaceutica ha usato le risorse naturali, siete dei cattivoni che ha usato le risorse naturali, e che pagate questi giornalisti che vi fanno un mazzo così. Io lo trovo straordinario nella sua ipocrisia, ma l'ipocrisia ancora più grande è che noi stiamo qui appresso a una ragazzina di 16 anni, una ragazzina di 16 anni che ci ha detto che gli stiamo rubando il futuro quando lei non conosce neanche il presente, non il passato, il presente, va bene? A me va benissimo, posso farne battaglie come l'ha fatta la battaglia, Franco Battaglia, sul mio sito, possiamo contestare quello che volete, posso contestare l'IPCC, ma studiando, vedendo quello che succede, può essere che il Nobel venga anche soltanto pensato di dare a una ragazzina che non ha la più pallida idea se non un luogo comune, un luogo comune, cioè un luogo comune che alcuni scienziati dicono essere vero, io contesto questi scienziati, ma le contesto perché ho letto Lomborg, perché ho sentito Franco Battaglia, perché ho visto tutte le battaglie che sono state fatte in maniera ipocrita contro l'inquinamento, perché so che voi in questo momento state pagando 16 miliardi di euro pari a 112 euro in ogni bolletta, ognuno di voi paga 112 euro in ogni bolletta su base annuale, elettrica, per questa minchiata del fotovoltaico che va a finire i signori della Confindustria, i cui giornalisti oggi scrivono, state usando le risorse ambientali, avete capito la circolarità del ragionamento? E che cosa fanno gli studenti? Scioperano. Bene, complimenti allo sciopero e complimenti soprattutto a voi che non state scioperando. E quando arrivate a casa, guardatevi questa zuppa, e questa zuppa è dedicata a voi, che siete considerati delle merde perché state a scuola, che siete considerati degli ignoranti perché studiate, che siete considerati dei fascisti soltanto perché volete avere un po' di spirito critico. Chiaro? Andiamo avanti. La seconda, Ministro Costa. Ministro Costa oggi fa un'intervista e sapete che cosa dice il Ministro dell'Ambiente? Io mio figlio lo manderei alle manifestazioni. Allora, voi pensate che un Ministro dell'Ambiente possa dire che suo figlio andrebbe alle manifestazioni? Fai il Ministro, fai un decreto per cui impedisci l'uso della plastica, inventata da Natta in Italia. Evitiamo l'utilizzo della plastica, evitiamola. Usiamo la carta? No, eh no, la carta no perché ammazza gli alberi. Che facciamo? Facciamo... cosa ci inventiamo? Come possiamo uscire dall'età della pietra se non con il petrolio? Come usciamo? Qual è la differenza tra l'età della pietra e l'età del fossile? L'età del fossile ci ha fatto vivere di più, vivere meglio, essere meno disuguali, sentite bene, essere meno disuguali, ma oggi invece si sciopera per l'ambiente. Dobbiamo tirare il freno a mano, avete capito? Solo 24 ore, tiriamo il freno a mano. Da una parte criticate il Movimento 5 Stelle e dall'altra lo andate a alimentare nel pregiudizio, un po' come fece con la casta il Corriere della Sera. È tutto figlio dello stesso identico tema. Ovviamente Repubblica su questo ci va a nozze, ha finalmente trovato una nuova religione, prima era l'anti-berlusconismo e adesso con quel genio di Verdelli, perché lo è da un punto di vista giornalistico, effetto terra! Sono cinque giorni che ci sbomballa perché Repubblica ha trovato il suo lato, ha trovato la sua, diciamo, posizione editoriale, straordinaria, per carità, perfetto! Ma, insomma, abbiamo anche la libertà di poterlo contestare, meno perfetto che questa cosa la faccia solo le 24 ore. Seconda questione, il revenge porno! Cioè quello che adesso è straordinario. E l'altra è grande ipocrisia. La Carfagna, Barbara Lezzi, Di Maio, Salvini, tutti adesso a fare la legge sul revenge porno, cioè la pornografia per vendetta. Ragazzi, i video e soprattutto le foto, perché non sono video della signora Sarti, a cui va tutta la mia solidarietà, perché è vittima di non revenge porno, di una vendetta privata usata attraverso telefonini, whatsapp. Il revenge porno è un'altra cosa, va a finire sui siti. Questo non è andato a finire sui siti, tant'è che questa cosa nel 2013 nacque, non oggi, è nata nel 2013 e nel 2013 la Sarti, come ricordano tutti quanti i giornali, chi si è presa? Si è presa un rumeno, amico suo, che è poi diventato il suo fidanzato, e gli ha detto togli le mie foto che sono finite sulla rete. Quindi il revenge porno, semmai nel 2013, oggi non è il revenge porno, oggi è ritornata la vicenda di un piccolo circoletto chiuso di Pentastellati, che ha l'ossessione, come dice Ferrara oggi, ma come dice benissimo Sallusti oggi, controllateci tutti, filmateci tutti, guardateci tutti. La Sarti, dopo aver beccato le sue foto, e ad aver avuto quell'incubo del 2013, che si sta ripetendo oggi in maniera disgustosa, quelle foto che erano nate nel 2013, cosa fa? Si mette con rumeno, gliele toglie dalla rete, e mette 4.000 euro di telecamere, che riprendono 24 ore su 24, a casa sua. Questo forse vi dà un po' di idea della salute mentale di una persona. Io, se fossi vittima di un ricatto attraverso delle foto, non metterei delle telecamere a casa mia, registrate con una chiavetta. Ma questo è un altro discorso, è libera di farlo, liberissima di farlo, e io penso che un paese normale permetta a chiunque di mettere queste cose. Quando io oggi leggo sul Corriere della Sera, la giornalista del Corriere della Sera, che critica il fatto che lei abbia messo delle telecamere a casa sua, dicendo che è un gesto non ortodosso, come si permette, la giornalista del Corriere della Sera, a dire che una persona non può mettere telecamere 24 ore su 24 ore in presa diretta a casa sua? Gesto non ortodosso? No, è un gesto sciocco, puoi dire, se una ha timore di essere di presa. Ma gesto non ortodosso? Ma come ti permetti? E' un gesto, io a casa mia faccio esattamente quello che voglio, anche le foto sopra i lampadari, nudo, chiaro? In un paese normale. Il punto fondamentale è tutta questa bolla di ipocrisia che ci sta intorno. Legge sul revenge porno, la Sarti è diventata l'eroina, de che? Non è eroina di niente, è una che ha detto al Movimento 5 Stelle che non aveva dato i soldi al Movimento 5 Stelle perché gli aveva rubato il fidanzato, e il fidanzato, e l'ha denunciato per appropriazione debita, e come è finita la denuncia? Finta denuncia, perché il fidanzato aveva i token e tutto dato dalla fidanzata Sarti, quindi questo è grave, non il revenge porno, questa è una falsa denuncia che forse dovrebbe essere un po' punita, e ce la stiamo dimenticando, perché adesso il problema è che ricircolano le foto che lei nel 2013 aveva denunciato a essere circolate e per cui aveva preso il suo fidanzato. Insomma, veramente imbarazzante. Su questa roba della Sarti ci sono tante altre cose da dire, oggi vi ho detto Ferrara che ne discute, cita Bezos, citando il fatto che anche Bezos, l'uomo più ricco del mondo, l'uomo che ha inventato Amazon, è stato vittima, non di un ricatto, perché sembrava un ricatto, ma di un giornale che ha detto c'ho le tue foto, che erano foto esattamente come quelle della Sarti, cioè foto sessualmente intime ed esplicite che lui e la sua fidanzata si erano fatti, per di più molto più grave, per quale motivo? Perché queste foto che si erano fatti erano un corno nei confronti della moglie di Bezos, mentre questa ragazza a 27 anni fa quello che gli pare ed è legittimo che faccia quello che le pare ed è legittimo che questa roba non finisca in giro. Ma questo è un altro tema, rispetto al tema che questo è stato presente alla Commissione di Giustizia, ha fatto una denuncia falsa di cui oggi non ci occupiamo e da cui nasce tutto quanto, e dirò di più l'ipocrisia di merda di quella sinistra che fa finta di difendere la Sarti attaccandola Mieli, Gruber e compagnia cantante. Gruber oggi c'è Belpietro che la, diciamo, sistema sulla vicenda Borghi e sul fatto che la Spagna fosse più o meno uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea, che ha detto Borghi, ed è vero perché la Spagna non era fondatrice della CE e della CECA, ma lo era dell'Unione Europea, ma chiusa la parentesi, la cosa imbarazzante è che la sinistra dice ah ma questa ragazza con queste foto eccetera, poi dopo fanno le carfagnate in giro. Insomma, è un mondo che va alla rovescia, è un mondo che va alla rovescia in cui c'è una vittima che si chiama Sarti per quanto riguarda la circolazione di foto sua private, una vittima che si chiama Sarti quando una giornalista di Repubblica del Corriere della Sera dice che è poco ortodosso che lei installi le telecamere a casa sua. Quindi due volte vittima. Ma una vittima anche l'intelligenza di noi, persone normali, che quando dopo cinque anni rispuntano queste foto, pensiamo che il Parlamento si debba occupare di inesprire le pene sul revenge porno. Una vittima, noi, della buona intelligenza normale, per cui adesso le Iene hanno sbagliato a tirar fuori il fatto che questa signorina, invece di ridare i soldi al partito, ha fatto una denuncia, che era una denuncia falsa, ed era presente alla Commissione Giustizia. Chiaro? Questo rimane, rimane, indipendentemente dalle porcate che gli fanno. Ma tutto parte da quel porco di Filippo Roma? No, non è un porco Filippo Roma. Ha fatto il suo mestiere, chiaro, ha fatto il suo mestiere. Ultima cosa che mi viene da ridere oggi è la storia di Briatore, tirata in ballo da Stella sul Corriere della Sera, ma in realtà da Bonelli, che è il deputato dei Verdi. Perché, vedete, tutti quanti sanno che non gli piace questa direttiva Bolkestein e tutte queste minchiate qua per la liberalizzazione e la privatizzazione degli arenili. Però c'è un tema. Secondo voi, secondo voi, è normale, sì, anche Dedo e Luca sono due vittime, ha ragione qualcuno lo scrive, perché sono usciti e non si riesce a capire per quale motivo. Secondo voi è normale che la spiaggia del Tuiga renda allo Stato 17.619 euro, cioè che il Briatore paghi 17.000 euro per avere quella spiaggia dove fa 4 milioni di fatturato. Per me ne potrebbe fare 100 e sono ben contento che la gestisca Briatore, sia chiaro, ecco, perché io sono contento che una spiaggia italiana sia valorizzata e che ci arrivino le bocce de Crystal. Chi se ne frega se riusciamo a far soldi col Crystal. Ma il punto fondamentale è un altro. Se voi avete 10 tavolini in un bar a Roma, secondo voi quei 10 tavolini in un bar a Roma, quell'occupazione dello spazio pubblico quanto vi costa? Ve lo dico io, centinaia di migliaia di euro. Possibile che lo spazio pubblico in un tavolino in una zona centrale di Roma costi 100.000 euro e invece una spiaggia per 15 anni costi 17.000 euro a Briatore? C'è qualcosa che non va. Cioè dobbiamo metterci d'accordo perché non è possibile che Briatore paghi 17.000 euro e il barista sfigato di Roma ne paghi 100.000. O no! C'è qualcosa che non mi quadra. Ocone l'ultima cosa che invece riguarda noi giovani liberali si fa per dire così Ocone è cacciato dalla fondazione Inaudi perché ha partecipato a una manifestazione che viene definita sovranista e in cui c'erano Lamaglie pericolosi insomma sovranisti secondo la fondazione Inaudi state con Ocone filosofo liberale tra l'altro crociano neanche diciamo quei liberali di destra state con Ocone con Gervasoni o state con la fondazione Inaudi io sono sicuro con chi sto se una fondazione manda via uno come Ocone e come Gervasoni io sto dalla parte di Ocone e Gervasone Briatore ha rotto il cazzo ad altri suoi colleghi un imprenditore che si fa i selfie come non è esatto dire che la Spagna è stato uno dei fondatori della Uela c'è ha cambiato il nome quando dice Marisa insomma c'è grande dibattito sull'errore più o meno presunto di Borghi di cui si occupa oggi Belpietro ultima cosa Mauro fa ovviamente non mi pareva avere una paginata su Tajani che dice che il fascismo ha fatto alcune cose buone cosa che secondo me è difficile contestare a chiunque chiunque ha fatto qualche cosa di buono anche se nel contesto diciamo negativo di una dittatura come quella fascista glielo imputano e glielo attaccheranno a vita questa roba a Tajani e tra l'altro oggi mi sembra che si scusi anche eccessivamente io non dico tanto ma insomma che ci siano due o tre fasi del fascismo e che le seconde e la terza fase sia quella drammatica degli omicidi degli assassini e del regime antidemocratico delle leggi razziali del 38 questo è fuori di dubbio e tutti lo sanno ma che ci sia stata una prima fase la fase del consenso insomma basta leggere De Felice De Felice non soltanto l'ultimo libro di Scurati che viene considerato da Gali della Loggia inesatto ma basta leggere De Felice per rendersi corso che la fascistizzazione della Stato da un punto di vista democratico come peraltro anche la nazi socialistizzazione dello Stato tedesco sono state fatte con gli strumenti della vecchia democrazia liberale e con dei principi di grande consenso popolare ma questo non si può dire perché ancora una cosa sola non si discute che il fascismo è il male assoluto e che la resistenza è il bene assoluto senza distingo senza se e senza ma direi perché scusarsi non capisco ma è una storia direi che per oggi è tutto noi ci diamo appuntamento come sempre sul sito tante altre novità sulla sciopero assurdo dei giovani per il clima e a cui tutti partecipano tutti 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 quelli che sanno bene i loro figli li mandano lo sciopero io se c'essimo figlio la cazzotta in testa se è minorenne lo manderei a scuola ciao